come va bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità l'avete visto dal titolo del video arrivano le novità del decreto lavoro con tante misure che riguardano proprio il lavoro e che è stato approvato dal consiglio dei ministri che il governo si è riunito proprio il primo di maggio il giorno della festa dei lavoratori ovviamente ovviamente ve lo dico in subito uscirà poi stampato il decreto in gazzetta ufficiale con tutto quanto poi spiegato bene in dettaglio metà non età persone non persone disabilità non disabilità tutto quanto specificato per file per segno quindi diciamo che oggi ci hanno dato una prima infarinatura generale no ci hanno dato proprio la notizia per capire come sarà poi maggiori dettagli saranno scritti in gazzetta ufficiale detto questo torniamo a noi arriverebbe l'assegno di inclusione con l'addio al reddito di cittadinanza dal 2024 poi c'è il taglio del cuneo fiscale che sale di 4 punti fino alla fine di quest'anno per i redditi fino a 35 mila euro e 7 punti fino a 25 mila euro e poi anche fringe benefit che cos'è il fringe benefit sono tutti i bonus aziendali non tassati cioè beni e servizi compresi i rimborsi per le bollette e di questo ne avevo già parlato anche in un altro video per i lavoratori con figli che il dicono il tetto sale a 3000 euro ma veniamo a noi veniamo noi parliamo di a di assegno di inclusione partiamo quindi dall'inizio proprio da quello che ci interessa e cioè l'addio di rdc perché da gennaio arriva l'assegno di inclusione adi di cui ne potranno beneficiare tutti i nuclei che hanno all'interno ma questo l'avevamo già detto persone con disabilità minori o persone con 60 o più anni di età l'importo arriverebbe fino a 6 mila euro all'anno che sono quindi 500 euro al mese più un contributo per l'affitto ovviamente l'affitto cioè il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato all'agenzia delle entrate non basta un foglio volante scritto così un geroglifico scritto sul muro e ci va un contratto d'affitto registrato con un uomo di protocollo eccetera eccetera comunque detto questo il contributo è di 3.360 euro all'anno che sono in definitiva 280 euro al mese poi c'è una novità che non avevo mai sentito in anche io prima d'ora però è uscita adesso proprio con la questione di questa giornata del governo che dicono che l'assegno di inclusione non scusate se nel se nel nucleo familiare è formato da tutte persone almeno di 67 anni o disabili gravi importo mensile e di 630 euro al mese più 150 euro di contributo affitto che se voi fate la somma e prendete da un lato i 500 euro di base più 280 euro di affitto fa 780 voi prendete 630 di base più 150 fa sempre 780 euro cioè perché ho fatto lì coi conti classici conti con la calcolatrice che vi dico sempre quindi alla fine sempre 780 euro sono a mente da una parte toglia dall'altra ma come il classico discorso tira la coperta ma i piedi sono sempre quelli no detto questo torniamo a noi l'assegno di inclusione verrà pagato per 18 mesi e potrà essere rinnovato dopo lo stop di un mese il classico che siamo già abituati per periodi di 12 mesi sarà necessario dicono essere residenti in italia da almeno cinque anni e avere un isè non superiore a 9360 euro per ricevere il sussidio dicono bisognerà iscriversi al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sis però attenzione non finisce qui perché per chi chi riceve l'adi e per chi riceve l'adi dovrà seguire altre regole che dopo vediamo poi abbiamo lo strumento di attivazione al lavoro sd a che non è il nome del corriere ma è lo strumento di attivazione al lavoro dal primo di settembre parte lo strumento di attivazione che viene considerato una misura di udite bene attivazione al lavoro con la partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro o comunque di politica attiva e sarà riservato a tutte le persone considerate occupabili il sussidio beneficio che dopo vi spiego anche un'altra cosina quindi per adesso chiamiamolo beneficio sarà di 350 euro e al massimo per 12 mesi non rinnovabili la partecipazione a corsi di formazione di qualificazione professionale o a progetti utili alla collettività quindi a quanto pare diventa vincolante per ricevere questo beneficio ecco che quindi come vi avevo accennato lo strumento di attivazione è un rimborso per chi si forma non è un sussidio ma un rimborso attenzione che potranno sembrare simili ma in realtà a livello fiscale o comunque contabile vi assicuro che sono due cose completamente diverse questa misura è riservata a tutte le persone di componenti nuclei familiari di età compresa tra i 18 e 59 anni di età in condizioni di povertà assoluta con un valore di sé non superiore a 6 mila euro annui che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione la richiesta di questo rimborso spese come vi ho detto non è più un sussidio ma un rimborso spese deve essere fatta online ovviamente tutto online e poi la persona che lo richiede viene poi convocata presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale dopodiché la persona può ricevere delle offerte di lavoro o essere inserito all'interno dei progetti di formazione in caso partecipi a programmi formativi ea progetti utili per la collettività per tutta la loro durata e comunque al massimo come vi ho detto per 12 mesi si riceve appunto un beneficio economico pari ad un importo mesi di 350 euro e questi soldi saranno pagati direttamente dall'inps ogni mese ma ora vediamo quello che vi avevo accennato prima l'offerta di lavoro congura ascoltate bene questa cosa qua è un'altra novità riguarda la nuova definizione dell'offerta di lavoro che se rifiutata farà perdere il sussidio il componente del nucleo familiare che riceve l'assegno di inclusione quindi l'adi ed è attivabile al lavoro deve accettare udite bene o dite bene in tutta italia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi quindi si sta parlando di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o comunque a termine di durata che deve superare i 12 mesi un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi se il contratto offerto è inferiore a 12 mesi e comunque non inferiore a un mese quindi vada un mese in avanti il luogo di lavoro non deve essere distante più di 80 chilometri da casa poi per ultimo per contratti di durata tra 1 e 6 mesi l'assegno è sospeso quindi come vi ho detto per adesso queste sono le prime informazioni le prime aggiornamenti le prime infarinature ecco diciamo che ci fanno capire come diventeranno tutte le questioni ovviamente poi tutto il discorso dello specifico in dettaglio come nella diretta live che mi chiedevate ma io c'ho il 78 per cento in quale delle due rientro a dio a a dio sd a val faccio parte di uno sono da solo vivo con la mamma vedova di 80 anni cioè per tutte queste domande molto particolari che ovviamente non sono ancora scritte da nessuna parte ovviamente queste sono le prime infarinature per questo e tutte queste domande molto particolari aspetteremo poi appunto l'uscita del decreto stampato sulla gazzetta ufficiale e quindi la sopra ci saranno tutte le risposte che stiamo cercando queste sono solo le prime infarinature quello in generale per capirci più o meno come ci si muoverà da adesso in avanti bene io spero che questo video sia riuscito a chiarire qualche dubbio iniziale io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e come sempre noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre e solo sull'unico canale originale di youtube il mio quello che vi fa i conti in tasca ci vediamo molto presto in un prossimo video ciao